buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde questa settimana parleremo di mobilità 2025 2026 quali saranno le nuove regole quali le novità in vista alla prima domanda i docenti messi in ruolo 24 25 quelli che hanno già fatto l'anno di prova perché entrati nel ruolo 23 24 potranno presentare domanda di mobilità proprio in questi giorni si stanno svolgendo diversi incontri per stabilire le nuove regole della mobilità per il triennio 2025 2028 di norma i neoassunti 2024 2025 e gli assunti 2023 2024 non potranno presentare stanze di mobilità per farlo dovranno avere delle precise deroghe che saranno inserite nel prossimo contratto integrativo di mobilità che sarà avrà validità triennale ricordiamo tra l'altro diciamo anche che questi incontri sono sempre più serrati e si tende l'amministrazione vorrebbe chiudere con le nuove regole già per la fine di novembre si presume che entro natale massimo noi avremo il nuovo contratto integrativo nazionale di mobilità e quindi la mobilità sarà diciamo l'istanza per la mobilità sarà possibile presentarla già dal mese o di gennaio di febbraio 2025 si tende ad anticipare rispetto all'anno passato poi questo è l'intenzione quello che sarà andremo poi a verificarlo nel tempo domanda numero 2 c'è speranza di abolire i vincoli triennali della mobilità dei docenti in alternativa quali potrebbero essere le deroghe al vincolo allora i sindacati hanno chiesto di abolire per via contrattuale il vincolo triennale della mobilità ma questo non ha trovato accoglimento da parte dell'amministrazione perché il vincolo della mobilità è stato previsto dal decreto legge 36 del 2022 poi convertito successivamente in legge e potrà essere eliminato solo per via legislativa e non per via contrattuale quindi per adesso nelle vie generali le deroghe al vincolo che sono previste per i docenti e sono quelli per i docenti che hanno figli di età inferiore ai 12 anni per i docenti che assistono figli coniugi o genitori che si trovano in stato di gravità per la legge 104 92 articolo 3 comma 3 e quindi per l'articolo 33 commi 57 hanno diritto all'assistenza da parte eh diciamo del congiunto docente eh e poi saranno applicati anche i vincoli e le deroghe ai vincoli per i docenti che hanno una disabilità ai sensi dell'articolo 21 della legge 104 nella trattativa del rinnovo del contratto collettivo nazionale integrativo di mobilità 25 28 le deroghe al vincolo potranno variare coinvolgendo la questione dei parenti e dei conviventi che hanno bisogno di assistenza e dunque non solo per quanto riguarda eh coniugge figlio e genitore ma anche di altre parentele o convivenze le cure eh continuative potranno essere anche un motivo di eh deroga al vincolo della mobilità e poi ci sono anche altre proposte che vedremo se verranno accettate e però ci sarà un elenco di deroghe ben preciso seguiremo questo aspetto della contrattazione per capire che tipo di eroghe verranno diciamo così normate domanda numero 3 la domanda per la costituzione delle gradatori di istituto per i perdenti posto sarà digitalizzata con presentazione dell'istanza tramite la polis tramite dunque le istanze online non è dato sapere se la presentazione delle domande per l'inserimento dei docenti nelle gradatori di istituto sarà fatta ancora manualmente come in passato o se oppure come vorrebbe l'amministrazione verrà proposta una norma ad hoc per prevedere la digitalizzazione di questa procedura lo scopriremo solo vedendo questo contratto nei prossimi nelle prossime settimane nei prossimi mesi a partire già dal prossimo mercoledì 30 ottobre ci saranno incontri sulla mobilità per stabilire regole norme per il prossimo triennio e subito a ruota incomincerà anche una questione riferita rinnovo triennale anche dei della mobilità annuale che seguirà diciamo di seguito appunto alla mobilità territoriale e professionale speriamo che le risposte vi possono essere veramente utili seguiteci nei nostri canali social facebook youtube e nel nostro sito www punto tecnica della scuola grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti